Ciao ragazzi bentornati qui sul canale, io sono sempre Capezza, oggi come avete visto dalla miniatura del video parliamo di una cosa inerente al nostro sistema di diagnostica della nostra auto o delle nostre auto. Quindi insieme andiamo a fare l'unboxing del nuovo OBD, praticamente un Only One, spina, cavo e apparecchio di lettura e andiamo a vedere come funziona e le differenze che ci sono con la vecchia versione, il vecchio modello che avevo appunto recensito qualche tempo fa appunto qui sul canale. Perciò mandiamo la sigla e vediamo di cosa parliamo. Ok ragazzi, il dispositivo in questione è appunto la nuova versione OBD per il sistema di lettura, errori, codici e diagnosi delle nostre autovetture. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo subito l'oggettino in questione, è veramente veramente molto semplice e carino. Qui c'è un QR code free gift card, ok, qui un altro QR code che sicuramente andando a fare la scansione su questi codici QR, forse a quanto sembra dovremmo avere uno sconto o regalino su qualcosa. Il contenuto della confezione è molto semplice, infatti basterà aprire la nostra bustina, ok, per trovare il nostro sistema diagnostico. Non ha bisogno di essere alimentato da nessun tipo di batteria o altra energia, diciamo, esterna, energia elettrica esterna, perché verrà alimentato direttamente dal suo spinotto. Adesso andiamo a fare il primo collegamento. Io ho una spia, diciamo un'anomalia motore che adesso vi faccio vedere, perché c'è una bassa tensione per quanto riguarda il sistema dei gas di scarico di ricircolo. Perciò parliamo sempre inerente all'EGR, impianto EGR. Queste macchine purtroppo sono molto sensibili a questo tipo di problemi, quindi adesso andiamo a vedere, accendiamo il quadro, vediamo la relativa spia che rimane accesa e dopo se riusciamo a spingerla con questo OBD2, però molto più versatile rispetto alla vecchia versione che avevo, che era praticamente questa qui, ve la faccio vedere, che ormai la conoscete, avete visto in molti il mio video, è questa qui che è questa necessita appunto della condivisione e l'associazione tramite Bluetooth al cellulare, allo smartphone. Mentre questo sarà in grado di fare un po' tutto da solo, è spartano diciamo come display perché è molto basilare, ma guardate che roba ragazzi, solo con questa specie di calcolatrice, questo specie diciamo, questo cavo, non specie di cavo, questo cavo e questo spinotto abbiamo tutto nelle nostre mani. Quindi andiamo a vedere la spia, andiamo a vedere come è nei vari menu, nei vari settaggi, io da quello che mi sono potuto documentare è abbastanza semplice e versatile per il suo utilizzo. Quindi diamoci da fare. Ok, dunque accendiamo il nostro quadro, vediamo quello che succede, la spia anomalia motore rimane accesa, infatti adesso metto in moto e vedete che la spia si è spenta per un secondo e si è subito riaccesa. Quindi adesso che faccio? Vado a spegnere la macchina, ok, e andiamo a collegare la nostra presa OBD che si trova, ormai lo sappiamo tutti, qui sotto ve la faccio vedere. Quindi andiamo a preparare il nostro strumento, ok, il nostro strumento adesso lo poggiamo qui per comodità e andiamo ad infilare lo spinottino. Allora, il dentino da questa parte, vediamo un po', ok, ecco qua, da subito lui va in funzione. Vediamo, perfetto, qui ci sono molti, molti riflessi, un attimino perché sono da solo, vediamo se riesco a posizionare il cavalletto. Ok, vedete l'interfaccia è veramente veramente molto basilare, adesso cerchiamo di capire un po' come funziona, chiaramente non è touch e con l'ausilio di queste due freccette sicuramente ok, ci possiamo spostare all'interno del menu. Molto probabilmente come prima cosa andrò sull'opzione qui sull'ingranaggio e premendo ok, infatti andiamo a vedere che c'è la possibilità di cambiare la lingua, l'unità di misura e il contrasto. Adesso io sull'ingua farò un tap su ok e me ne andrò sulla lingua italiano che fortunatamente è presente. Unità di misura, quindi andremo su inglese, metrico, sceglieremo il metrico che è l'europeo o l'italiano. Io cercherò adesso di fare in modo, vediamo un po' se ok, perfetto, scelgo l'italiano, poi vediamo in post produzione se riesco a abbassare un po' la luminosità. Contrasto, vediamo il contrasto se abbassandolo migliora un pochino. Vediamo un attimo, no forse peggioro, lo mettiamo ad un 60%. Ok, vediamo un attimino, ecco così sta a fuoco. D'accordo, allora quindi una volta fatto questo farò credo un tap su questa freccetta. Ok, andiamo adesso su OBD e cerchiamo di vedere se trova l'errore. Aspettare il veicolo per rispondere, che hanno OBD2, perciò ci dice che sta in preparazione per collegare con la centralina presente sulla mia macchina e vediamo quello che ci dice. Allora, vedi, date the injection, check the tool connected, security connected, ok. Allora, date the injection, file to connect, ci dice, allora, wait for about the second internet, injection back to home. Allora, perciò adesso io proverò a mettere in modo la macchina, ma prima di questo voglio andare a vedere questo qui, questo grafico, che cosa mi dice. Allora, sai che hanno OBD2, questo è un altro, diciamo, credo che sia per vedere i report, quelli che sono, diciamo, in centralina, quelli che sono in memoria. Perciò, torno indietro, vediamo qui sotto, ecco la lente di ingrandimento. Allora, this range PCB, range 1, 2, 3, order from 0 to F. No, allora, presumo che dobbiamo accendere la nostra macchina. Allora, se faccio qui, di nuovo, non succede nulla, su VIN ci dirà collegamento, poi adesso andiamo a vedere anche DTC che cosa è. Quindi adesso vediamo, io proverò ad accendere il veicolo e vediamo se facendo una scansione ci trova qualcosa. Ok, motore avviato. Se adesso faccio un tap su OBD, vediamo, dovrebbe ricercare l'errore. Aspettate l'eveicolo per rispondere, ok, codice trovato 1. Ecco qui, a macchina e moto, vedete, una volta avviato il motore, leggere codice, eliminare codice, ok, perfetto. Quindi, a macchina spenta, lui non prende corrente, chiaramente non si alimenta. Questa è una cosa che non sapevo. Allora, leggere codici, quindi andremo a fare un tap su OK. E infatti ce lo dà in seduta stante, veramente, ragazzi, quant'è veloce. Exhaust gas recirculation contro il circuito. Controllare il circuito dei gas esausti, quindi dei gas di scarico del circuito, del, diciamo, ricircolo dei gas di scarico. Quindi, facendo OK, vediamo se eliminare codice è quello che succede. Eliminare i codici, eliminare i codici diagnostici, OK. Quindi faccio un tap su sì e vediamo, eliminare i codici, eliminazione fallita, vediamo. Infatti, ragazzi, un attimo di pazienza, vi faccio vedere che, senza tagliare il video, in man che non si dica, un attimino che alzo l'osmo, un attimo che non è facile. Vedete, cerco di far fare il fuoco all'osmo, non mi aiuta, non mi aiuta. Ecco qui, vedete che è spenta la spia anomalia motore. Molto probabilmente, e dico molto probabilmente, la spia anomalia motore si riaccenderà quando io andrò a spengere l'auto, diciamo, perché chiaramente lui spenge la spia, ma se noi non risolviamo il problema, automaticamente la spia rimarrà. Allora, eliminare i codici, visualizzare, disponibilità IM, informazioni, veicolo. Vediamo che cosa dice, accendere. Allora, calibrazione, calibrazione, questo perché in tedesco lo sanno solo loro. Allora, calibrazione, vediamo un po', no, qui non fa niente. Ah, sta facendo, ah, ok, ok, stava lavorando, veicolo numero, allora, torniamo indietro. ID, forse ci dovrebbe dare i numeri del telaio, vediamo un po' se è quello che penso. Sembra apparentemente, numero vorreggien, dovrebbe essere un tedesco, forse un po' mangiucchiato, però non succede nulla. Quindi, tornando indietro, vediamo sul flusso di dati che cosa ci dice, se ci dà informazioni. Fuel, load, carico, PCT, vedete questi numeri che si alzano e si abbassano, eccetera. Questo non è molto percettibile, sinceramente. Questi sono i giri del motore, vedete, 751, 52, 53. La velocità, chiaramente adesso siamo in folle perché stiamo fermi. E tante altre cose che dopo bisognerà vedere come poter capire questi, diciamo, questi valori. Real time curve, allora, velocità auto, calcolare il carico, refrigeramento motore, molto probabilmente dovrebbe essere la temperatura. Andiamo a fare ok e vediamo, ok, ci dice che, eccetera, 48 gradi, dovrebbe essere, vediamo un po', 40, sta un pochino sotto 60, molto probabilmente è vero, ci dà la gradazione. Vediamo un motore RPM, infatti i giri di prima 750, vedete, 748. Ok, andiamo ancora a velocità auto, ci dovrebbe dare 0, speed, km orari 0. Non capisco perché poi qui speed ce lo mette in inglese quando abbiamo fatto la richiesta, diciamo, in italiano. Calcolare di carico, questo che cos'è, load, il carico, sinceramente non ho la minima idea di cosa possa essere, perciò perdonatemi. Informazioni, veicolo, ripeto, accendere, ci dà sempre questo, vediamo, voire ringen menu, ok, perfetto, non c'è un cavolo che ci possa servire. Opzioni, l'avevamo visto, ok, lingua, unità di misura e contrasto, vediamo la massima, diciamo, potenza del contrasto, ragazzi, non si vede assolutamente nulla. Quindi, secondo me, un buon compromesso è un, diciamo, un 60%. Perfetto, paginazione, ah, ok, paginazione sarebbe regolazione, sì, effettivamente è un inglese un pochino contorto. Niente, torniamo su OBD, stato del sistema, codice trovato, 0, ok, leggere codice, eliminare, visualizza free frame, freeze frame, vediamo che cos'è, leggere PID, si prega aspettare, vediamo qualche cosa, e ci dà altri carichi, quello di prima, che non so che cosa sia, a parte i giri del motore, la temperatura dell'acqua e quant'altro. Perciò, abbiamo visto che molto probabilmente è percettibile come sistema, vediamo che la plastica è una fattura abbastanza buona, la gomma dei tastini sono veramente ok, è semplicissimo l'utilizzo, quindi adesso andando a spengere, andando, anzi, scusate, a togliere lo spinotto, automaticamente lui va a spegnersi. Perciò, abbiamo finito con la recensione, questo sembrava uno sportellino, invece non è niente di che, il cavo, c'è circa un metro di cavo, perciò abbastanza generoso, e andiamo a trarre le conclusioni anche di questo semplice video. Dunque, le conclusioni quali sono? Che l'oggetto è veramente performante, semplice da capire, semplice da utilizzare, per 20 euro ce l'hanno portato a casa perché il suo prezzo consigliato era circa 25 euro. Ho preso un prezzo offerta a 20-21 euro, ve lo sono preso subito appunto per la comodità del suo filo, lo spinotto, senza dover andare a interagire ogni volta tramite il telefonino. Quindi è un prodotto che consiglio vivamente, perciò anche questo video termina qui, se avete domande o consigli me li mettete qui sotto. Le solite raccomandazioni, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porti un nuovo video. Ci vediamo alla prossima, ciao da capezza!